Eccoti l'autofire zio Tasto premuto Gioco con una mano Se no non riesco a fare il filmato Spero di non fare figure di merda Premetto che non ho mai giocato a Raiden Quindi evitiamo commenti Ti faccio cagare Ecco Cominciamo E poi giocare con una mano Non è facilissimo Vabbè Questo sarebbe per farti capire Che l'autofire funziona